L'inizio più importante è quella di stasera per rincogliere i fondi, ma soprattutto la necessità di ringraziare il Calcit in maniera profonda per tutta l'attività che svolge sul nostro territorio a servizio proprio della salute pubblica, sia per tutelare il deco oncologico e sia in generale per la tutela del nostro ospedale servistori. E anche stasera si è confermata la grande fiducia delle persone che hanno verso il Calcit, perché le donazioni che arrivano ogni anno sono tantissime il Calcit da sempre come associazione sa garantire una filiera trasparente dell'utilizzo delle risorse che sono state donate dalle persone proprio perché ogni anno finanziano sia personale all'interno dell'ospedale, professionisti sanitari, sia strumentazioni fondamentali proprio per garantire la diagnostica. Quindi un grande lavoro collettivo da parte dei volontari per i quali ringrazio davvero il Calcit Tutto, il Presidente Bonarcini e stasera ringraziamo anche ovviamente i volontari del Circolarci dello Stecco che ci hanno ospitato realizzando un'ottima cena per tutti gli invitati.